Maria Centracchio e Andrea Lalli, vi ritrovate un anno dopo il premio Ussi, oggi per la prima giornata dello sport molisano. Maria, da quanto tempo non rivedevi Andrea? Da un anno preciso. In queste occasioni ci ritroviamo. Come l'hai trovato? Come sempre? L'anno scorso. Andrea invece? Io l'ho ritrovata rossa. L'anno scorso la bionda e quest'anno ha cambiato... Perché voleva parte di compagnia. Ah, giustamente. E le vostre prossime gare quali saranno? Io andrò in Belgio, a il giocafraio, a fare un torno internazionale e poi ricomincio tutto il tutto con la nazionale. Andrea? Io invece devo prima riprendermi da un'infortunio, da un'infiammazione che ho al ginocchio, dopodiché potrò pensare ai prossimi obiettivi. Però diciamo che l'obiettivo principale del 2014 sarà il mese di agosto, ai campionati europei di Zurigo, dove spero di fare una bella figura. Aiutatemi, tifatemi, mi raccomando, dalla TV e speriamo bene. Un saluto conclusivo per gli sportivi molisani, Maria. Continuate a fare sport, continuate a crederci, perché se voi ci credete noi possiamo andare avanti tutti insieme. Andrea? Anche io, credete nei vostri sogni perché sono tutti realizzabili. Come l'abbiamo fatto noi, potete farlo anche voi. Grazie. Ciao.